Ciao! Salve a tutti. Benvenuti in questo episodio che tutti quanti volevano che accadesse. Sì, anche un po' troppo. No, no, giustissimo, perché io sono andato al cinema a vedere 1917 e tutto il tempo ho pensato come c***o hanno fatto a fare questo film, io credo. Quindi non te lo sei guardato. L'ho guardato ma nella mia testa c'era sempre un piccolo Mauro Zingarelli che diceva te lo spiego io, te lo spiego io, te lo spiego io, miniature, miniature. Grande premessa, questa è la prima volta che facciamo un come c***o hanno fatto su un film uscito da così poco, quindi se non l'avete visto ci sono una marea di spoiler in questa cosa che stiamo per fare e non ci tratterremo. No. Quindi chiudete il video, andatevelo a vedere e poi tornate a vedere il video. Allora, questo film è una follia a livello tecnico perché è tutto un piano sequenza e che vuol dire che a livello visivo per chi guarda è un'unica scena che si protrae per un'ora e mezza, due ore. Quindi la prima domanda credo sia come c***o hanno fatto a fare un film tutto unito che non c'è mai un taglio, cosa che poi è già successa tipo con Birdman. Sì, uno dei primissimi fu The Rope di Hitchcock che usava di base la stessa tecnica che viene usata in questo film. Cioè? Si chiama taglio fantasma. Praticamente c'è un taglio ma non te ne accorgi perché è nascosto in un movimento di macchina. Le maniere più facili per farlo sono per esempio far passare un oggetto davanti alla macchina da presa, quindi tutte le volte in cui la macchina entra in una stanza buia e c'è un momento di nero, lì in realtà c'è un taglio perché tutte quante le scene per esempio con Colin Firth, quelle che all'inizio in cui gli spiega la missione che dovranno fare, è in un teatro di posa. E quindi quando loro entrano nella trincea, lì sul nero c'è un taglio e ricominciano in una finta trincea costruita in studio dove fanno tutta la scena. Quindi di base la chiave è fai lo stesso movimento di macchina in due posti diversi, avendo un momento in cui diciamo l'inquadratura è imputtanata, puoi fare il taglio e la gente non se ne accorgi. Questa cosa io un po' la sapevo in realtà. Ma perché tu sei in realtà un aspetto. Perché sennò le persone pensano che sei un completo ritardato. No, tu non sei un completo ritardato. Sono un parziale ritardato. Non ho la 104 ma c'ho la 52. Bravo. Ho ritardato a metà. Assodato quindi che nel film ci sono diverse location e che non è stata tutta una location di fila, ma nel film ci sono dei momenti in cui l'acqua è protagonista. C'è un momento in cui loro entrano dentro una specie di cratere di una bomba piena d'acqua e la telecamera passa sopra l'acqua volando. C'è un momento in cui lui attraversa un ponte e la camera lo segue volando. C'è un momento in cui lui cade in acqua e rischia di affogare e la camera lo segue volando. Come c***o hanno fatto a fare ste scene? Come? Vediamo se becchiamo qualcosa su YouTube. Ok. Qui loro sono nella No Man's Land. Esatto. No? In cui non... Sono a metà... E poi loro scendono in questo cratere. Tra l'altro il tipo all'inizio gli ha detto mi raccomando non entrate nei crateri che non è uscito. E loro non fanno altro che entra nei crateri. Ecco vedi qui adesso c'è la macchina che vola. Cioè passa sopra l'acqua e non è possibile che sia un fottutissimo carrello perché c'è un movimento strano. E poi comunque c'è il cratere quindi il carrello dove l'hai messo? Dove l'hai fatto passare? E lo stesso per questa scena di lui che attraversa il ponte. Lui qui fa giochi senza frontiere sul ponte con tutto bardato e però la macchina lo segue quindi l'operatore vola. L'operatore vola. Ci può stare me lo puoi dire. Cioè loro hanno trovato un operatore che vola. No proprio vola. Cioè tipo Superman. Adesso te lo spiego. Loro ovviamente hanno usato una serie di tecniche miste per superare ogni difficoltà che avevano. Gli ostacoli. Esatto. E quindi hanno usato un'unione di stabilizzatori, steadicam, crane, tutto ciò che avevano in disposizione anche i droni. Trovando una maniera per agganciare la camera di volta in volta e sganciarla. Praticamente quello che avevano è... Ma c'è la camera sempre una? Sì, avevano questa sorta di braccio con due ganci e la macchina da presa era montata su uno stabilizzatore e tenuto da un palo. E loro di volta in volta lo potevano agganciare e sganciare e quindi erano tutti sincronizzati per farlo. Nello specifico le scene sull'acqua sono state fatte con questo strumento qui. Ah ma è tipo la... È un... La spider cam degli stadi. Sì, sono una serie di cavi passati da una parte all'altra con delle gru a cui è appesa questo braccio con un peso con questi gancetti su cui puoi attaccare la camera con un peso. La cosa che mi fa ridere di tutto questo è che comunque il fonico invece è sempre un povero Cristo. Cioè non potevano attaccare il microfono, no? No, perché il fonico deve reagire a dove si spostano le bocche delle persone. Non puoi fare questa cosa. Sento che i fonici sono un'altra categoria bistrattata tanto quanto gli stuntman. Sì, sì. Avevano vari modi per muoversi tra le cose. In alcuni casi si mettevano su delle jeep, altri casi correvano, come dicevano degli operatori, e altri casi poi sì. Quindi in sostanza quello che succedeva era un'enorme staffetta. Esatto. Per cui c'era la telecamera che era il testimone della staffetta e tanti punti in cui c'era, che ne so, ok, adesso è camera a mano, poi si arriva sull'acqua e quindi devo agganciarla alla funivia. Poi dopo la funivia la riprendo, corro un po', salgo sulla jeep. Cioè quindi praticamente i veri eroi del film sono gli operatori che hanno veramente corso quanto hanno corso i militari. Sì, la cosa fica è stata anche che hanno utilizzato una macchina da presa molto specifica, una modello dell'Alexa, che si chiama Alexa Mini, che esisteva già, però non esisteva la versione LF, che ha un sensore più grande e gli serviva. Quindi hanno fatto apposta il film. No, è successo che Roger Dickens, il direttore della fotografia, è andato a Larry, quella che fa l'Alexa. Ha detto ciao. Ha detto ciao ragazzi, che bella l'Alexa Mini. E hanno detto sì, stiamo sviluppando anche la versione LF con il sensore più grande, tra un paio d'anni sarà sul mercato. No, no, no. E lei ha fatto sì, bello, però che ne dite se invece ce la date a febbraio e ce ne date tre e noi ci giriamo tutto il film. E noi ci è andato lì a dicembre. Non ho un'idea. Loro sono riusciti a farla e hanno utilizzato anche un tipo di stabilizzatore, sempre dell'Harry, che si chiama Trinity. Praticamente è un Ronin su un aestheticam. Ha il palo dell'aestheticam e il braccio dell'aestheticam, ma in cima è montato uno stabilizzatore a tre assi, in modo che tu puoi anche rovesciarlo. Sembra che gira con un lampione. È orribile. È orribile, però. Senti, e invece un'altra domanda. Perché va bene che tu corri, attacchi la macchina, una funivia, che poi la riprendi, vai sulla jeep e voli, ok? I droni. Cioè tu mi vuoi dire che c'era un drone sollevato a mezz'aria pronto a ricevere la macchina per poggiarcela e poi fare la dronata? No, quello è un altro dei momenti in cui si utilizza il taglio fantasma, ovvero con un taglio fantasma si passa da una ripresa con Crane, tipo questa, vedi, dove si vede che lui è nel fiume e c'è un braccio che è attaccato alla riva del fiume che lo segue. Con un momento in cui l'acqua impalla la macchina da presa si passa alla ripresa del drone, che lo segue fino al momento in cui lui cade dalla cascata, paronamica verso il basso e in quel movimento si riattacca ad un altro braccio. Quindi lì è una questione di mischiare le tecniche. Un'altra cosa particolare è che erano varie parti del set, erano fatte per essere smontate, per far passare gli operatori. Tipo, nel momento in cui lui verso la fine è nel palazzo e la macchina da presa lo segue, che lui scende le scale, invece la macchina da presa esce fuori dalla finestra, con la finestra si apre. Era un sistema meccanico in cui si apriva e... insomma, tutto il set era costruito appositamente per accomodare i movimenti dell'operatore. Ecco, parliamo del set. Allora, in questo film loro iniziano in un prato con degli alberi, entrano in una trincea, vanno nell'ufficio della trincea del generale, poi escono, poi cominciano a correre, arrivano nella trincea nemica, poi vanno nella zona di mezzo. Mille location, tutte di fila? Cos'hanno fatto? Hanno costruito tutte le trincee, tutti i palazzi, tutto quanto pronto lì. Ci stava la gente che ha aspettato quattro ore che lui arrivasse da dove stava partendo. Come c***o hanno fatto? Impossibile. Hanno fatto. Che vuol dire? Cioè, hanno costruito un campo di battaglia. Questi corrono, durante sto film corrono per metri, metri, metri e metri e tutto è pronto perché loro arrivino in quel momento. Qui gli attori quanto aspettano? Hanno proprio detto, ragazzi, voi combattete se ci fosse una vera guerra, poi arriverà uno e vi dirà delle battute e rispondetegli. Sì, nel senso, è stato tutto approcciato con l'idea di fare un incrocio tra teatro e cinema, perché per quanto ci siano dettagli fantasma, quindi per quanto in realtà sia girato a blocchi di scene da sei, sette, otto minuti massimo, comunque se arrivi all'ottavo minuto del take e sbagli, devi ricominciare tutto da capo. Hanno fatto una serie di prove con lo script. Ci hanno durato quattro mesi le prove. Per quattro mesi non hanno fatto altro che camminare, parlare, camminare, parlare e misurare. E quindi è capire quanto ogni fase durava, quanto tempo gli richiedeva, quanto spazio gli richiedeva. Una volta che avevano precisamente ogni scena passo per passo, hanno iniziato a costruire, vediamo se indovini, miniature. Bravo. Oddio, pure lui! Proprio perché dovevano avere un'idea precisissima di quello che andavano a fare. Hanno costruito tutti i set, tutte le trincee in miniatura per capire qual era il percorso che loro avrebbero dovuto fare, quanti metri, loro hanno costruito circa 1600 metri di trincee in totale, ok? Doveva essere tutto quanto precisissimo. Si ci ha lavorato alle trincee, c'è gente che ha scavato trincee per quanto tempo. È il reparto scenografia. Ma non è scenografia, sei uno schiavo, scavi trincee. E' impagato come uno scenografo, però. E' sempre questa cosa che torni a casa, è tutto sporco di fango. Amore, cosa hai fatto oggi? Ha scato trincee per la prima guerra mondiale, per quanto? Ma siamo nel 2019! Esatto, è finita la guerra, amore! Poi lo porta in psicanalisi, poi si lasciano e chiunque ha scato queste trincee adesso è solo. Bravi. Però ha fatto nel 1917. Beh, neanche hanno vinto l'Oscar tra l'altro, falliti. Tipo la scena finale in cui lui deve correre per avvertire il generale Camberbatch prima che faccia partire la seconda ondata e quindi corre. Come? Questa scena nello specifico fa molto ridere la maniera in cui l'hanno girata, perché parte da dentro, poi esce fuori, lui corre e rientra dentro. Quello che è successo è che loro avevano questi crane, che sono queste braccia lunghissime attaccate a volte al terreno, a volte attaccate a una macchina che se le porta via, sempre stabilizzate ovviamente. E ne avevano una all'interno della trincea e una su una macchina che invece avrebbe dovuto fare la corsa. La parte fuori. Perché sono vestiti da militari? Questa è la cosa divertentissima, perché ovviamente la macchina da presa vede tutto e corre l'automobile molto più veloce di quanto possano correre due persone. Quindi quello che loro hanno fatto, gli operatori erano vestiti da militari, perché una volta agganciata la macchina al secondo crane, loro dovevano riuscire fuori come comparse. Ovviamente, essendo tutto girato in location differenti, in posizioni differenti, ma avendo girato tutto di seguito, non c'erano luci, ok? L'unica luce era la luce del sole e per fare in modo che fosse il più neutra possibile... Hai ragione. Eh già. Hai ragione, non ci ho minimamente pensato. Esatto. Perché giustamente nella macchina si muove tutto e quindi se metti lo stativo col faretto si vede in campo. Quindi? E quindi hanno girato con la luce del sole sempre quando era nuvoloso, in modo che fosse costante. Se non era nuvoloso? Stavano fermi. E quindi metti che per un mese non era nuvoloso non giravano. Hanno previsto il tempo in modo da girare quando era nuvoloso, ma non riescono a prendere manco quando piove un giorno prima. Appena arrivavano le nuvole, facciano, dai 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 dai, giriamo, 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 giravano. E poi se riusciva il sole si rifermavano. Però il problema è che se così non fosse stato avresti avuto la direzione del sole che cambia continuamente in maniere... È certo. Non raccordate. Bravi. Bravi. Sai che scuola hanno fatto tutte le persone che hanno lavorato a 1917? No. Hanno fatto i workshop della Slin'Dogs per cominciare, sì sì sì. Però non me li ricordo. Eh sì, perché tu ancora non c'eri. Ah ok. Praticamente se voi andate in descrizione trovate un link, ci cliccate e chiedete informazioni sui nostri workshop e diventerete esperti di effetti speciali, effetti visivi, ripresa, montaggio. E avete lo sconto del 10% se dite che arrivate dal video di 1917. Quindi link in descrizione e tra cinque anni vi assicuro che sarete nominati agli Oscar. Ma ti denunciano così? Ma questa è pubblicità? Come si chiama? Ingannevole. Ingannevole. Vabbè ma siamo su YouTube facciamo c***o ci pare. Perfetto dai. L'ultima domanda ha a che fare con la scena in cui lui arriva nella città tutta diroccata, distrutta. Che è notte. Sì. Ma non è notte, cioè è notte ma succedono tutta una serie di cose a livello di bombe, di fiamme, di robe. Per cui ci sono dei lampi di luce folli che girano intorno a lui. Come c***o hanno fatto a fare tutte quelle robe di luci senza senso? Cioè capito? Ci sono questi razzi che vengono sparati che illuminano tutta la scena a giugno. A tratti. A tratti. Esatto. E' l'effetto meridiano. E poi c'è le fiamme laggiù che non sto proprio capendo. Poi soprattutto l'altra cosa è notte, è buio ma poi dov'è lui c'è sempre un po' di luce. Quindi che facevano? Correvano con le luci per stargli dietro? Tutto il set della città, che era uno dei più complessi ovviamente, è stato costruito come modellino. Oltre che l'intera città è stato costruito come modellino anche l'impianto luci. L'impianto luci. In modo che Roger Dickens che è direttore della fotografia pensò... Cioè hanno fatto delle miniature delle luci che avrebbero usato sul set? Sì, e ti spiego anche perché... Mannaggia. Roger Dickens, non a caso, uno dei direttori della fotografia più bravi. Quello che lui voleva per questa scena è che ci fosse questa luce che cambiava... Costantemente. Costantemente, per dare questo senso di mancanza di orientamento. Però ovviamente, come dici tu, aveva anche bisogno che le ombre e le luci fossero nei punti giusti che gli servivano. Nel momento in cui lui passava. Esatto. E poi c'è quell'enorme palazzo in fiamme. Esatto. Quello che hanno fatto è stato costruire queste gru con questi razzi, con questi bengala attaccati, che facevano luce. E loro sapevano che direzione prendevano. Cioè loro hanno attaccato dei foghi d'artificio a delle gru che li tiravano in aria e li muovevano come se fossero tipo le stelline di Capodanno. Perché così potevano controllare la direzione, potevano controllare il tempo, potevano controllare il momento in cui... Si trovavano in una parte specifica del set. Il palazzo in fiamme, invece, è questa enorme struttura ricoperta da 2000 luci da 1 kilowatt l'una. Erano 2000 lampadine. 2000 kilowatt. Esatto. Che sono? 2 megawatt. Tipo per capirci, io ho una stanza e illumino con... L'impianto di una casa può reggere al massimo 3 kilowatt. Una casa a 3 kilowatt, loro avevano 2000 kilowatt. Quindi loro avevano su un set l'illuminazione per 600 abitazioni. Perché 600 per 3 kilowatt sono 1800, più o meno 2000 kilowatt. E quanto è stato il budget del film totale? E' stato tanto, tipo 100 milioni di dollari. Eh, 98 milioni erano la corrente. Era la bolletta che gli arrivava dalla CEA. E' arrivata la raccomandata, ha scritto 98 milioni di dollari. Esatto. E' lì il restante dei milioni erano usati per costruire le dritte. Esatto. Aggiungerò una cosa a cui poche persone hanno pensato. Il montatore di 1917. Eh, il montatore non ci hanno pensato perché non c'è, non ha fatto un ***, nel senso è tutta una ripresa che devi montare. Ha lavorato 9 mesi a questo film. 9 mesi? Cioè un parto, un bambino? Perché? Quanti tagli di fantasma ci sono? 12? Lui non l'ha rivelato. Ha detto, non ve lo dirò mai. Quanti tagli? Quanti ce ne sono. Il montatore ha la responsabilità di scegliere il ritmo del film, ok? Prima di tutto lui è un montatore leggendario. Cioè lui ha montato... Un montatore leggendario. Quello che faceva lui è dato che loro giravano circa una scena al giorno. Lui il giorno dopo rivedeva il blocchetto girato il giorno prima. E sceglieva quella che secondo lui era la clip venuta meglio. Perché poi doveva mandarla a Sam Mendes che il giorno dopo avrebbe girato il pezzetto successivo basandosi sul pezzetto scelto il giorno prima. Ognuno era leggermente diversa dall'altra. Quindi in realtà è stato un regista in seconda? È stato il montatore nel senso di quello che sceglie il ritmo. Che dice a Mendes, guarda questa è più veloce, questa è più lenta. Soprattutto delle volte dicevano, ok, quella di ieri era un pelino più lenta. Quindi quella che giriamo oggi facciamola un po' più ritmata così il film ha questo ritmo. E la cosa bella è che non hanno cambiato la selezione dal montaggio preventivo al montaggio finale. Va bene, direi che possiamo chiudere qui. Oggi niente domanda bonus perché tanto questo video è tutto un'enorme domanda bonus. Perché un miliardo di persone ci hanno chiesto questa cosa e io volevo... Tutte accontentate. Tutte accontentate, quindi... Prego. Prego, esatto, prego. Nei commenti scrivete domande su come c***o hanno fatto relativi a film o serie tv di guerra. Ah, così ci prepariamo a una puntata sui film di guerra. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, se siete iscritti attivate la campanella così ogni volta che esce un come c***o hanno fatto lo saprete per primi. Quindi lasciate un like, condividete questo video con tutti i vostri amici che vi hanno detto ma come hanno fatto a fare l'117 è impossibile. Adesso lo sapete. Eccolo qua. E noi questa volta ce ne andremo in piano sequenza con un taglio fantasma a un certo punto. Quindi adesso sgancia la macchina Michele e seguici e ci sarà un taglio fantasma. Vediamo se riuscite a capire in che momento. Va bene, io... Vediamo se riuscite a capire in che momento.